Allora, dottor Favero, ritorniamo a noi e vorrei subito iniziare con un'immagine che ci collega a un tipo di intervento che voi fate e che è molto esemplificativa di quello che lei stava raccontando prima e che ci fa capire anche la rapidità di intervento, di esecuzione e anche di esito finale. Di che cosa si tratta? Cos'è questo? Questa è l'implantologia a carico immediato, quindi l'inserimento degli impianti anche post-estrattivi, cioè subito dopo togliendo il dente si può inserire immediatamente la vite. Ma non bisogna aspettare? No, dipende dai casi ovviamente, cioè se c'è un'infezione presente nell'alveolo o in quel sito post-estrattivo e la mancanza anche di osso a 360 gradi è chiaro che non si può mettere subito l'impianto e bisogna aspettare, ma nelle riabilitazioni soprattutto totali questo non avviene mai anche perché noi dopo che abbiamo tolto tutti i denti andiamo a pulire completamente l'osso spianandolo con delle frese o con appunto delle curette o dei cucchiai alveolari noi prepariamo il campo, quindi l'osso in maniera orizzontale piatta e andiamo a inserire gli impianti nelle zone dove appunto abbiamo tutto l'osso, non c'è l'infezione e possiamo caricarli immediatamente. Caricare l'impianto significa mettere subito la protesi, cioè i denti, quello che stiamo vedendo là, provvisori o anche definitivi, in maniera digitale o in maniera tradizionale, in maniera chirurgica computer guidata quindi preparando al computer il piano di trattamento, come si fa? Facciamo sempre fare la TAC 3D al paziente, nella TAC 3D c'è un software che viene fuori al computer e ci mostra esattamente com'è in tre dimensioni la mandibola del paziente io pianifico, cioè al computer disegno, metto il mio impianto e la mia corona, sovramonto diciamo, prendo un'impronta digitale al paziente sovrappongo i due file, quello dell'impronta digitale che mi dà la bocca reale del paziente e la TAC 3D che mi dà la forma e l'anatomia dell'osso queste due cose vengono sovrapposte, io disegno nella sovrapposizione di questa immagine i miei impianti, invio il file all'azienda implantare che mi crea una dima chirurgica, quindi una mascherina trasparente che è la coppia dei denti del paziente con i bucchi già fatti di dove io andrò a mettere gli impianti e dove io ho deciso di mettere gli impianti e ovviamente l'ho deciso al computer vedendo esattamente dove c'è l'osso quindi non c'è margine di errore, è impossibile quindi non è una cosa discrezionale, è proprio no, è così punto e quindi questa precisione è tale che ci permette anche di creare già i denti prima di, cioè non dopo l'intervento chirurgico con l'impronta della posizione degli impianti ma prima perché noi sappiamo già dove sono posizionati gli impianti mentre prima bisognava posizionare gli impianti, prendere un'impronta intraoperatoria darla al tecnico che sviluppava il modello e quindi trasferiva la posizione degli impianti fuori dalla bocca e costruiva i denti e questo richiede del tempo adesso i denti sono già pronti quindi quando metto gli impianti in maniera, in computer guidata primo non devo tagliare secondo non devo levare un lembo e quindi scollare le gingive, il periosto dall'osso che crea un trauma, questa cosa qua non devo sotturare, non ci sono fili in bocca e il sanguinamento è praticamente nullo quindi con questa tecnica il posto operatorio è pressoché nullo perché se io non scollo, non ho sanguinamento, non ho punti in bocca che si possono infettare e infettare perché giustamente c'è questo aspetto anche qui sicuramente la chirurgia è più veloce e meno dolorosa e dopo i denti sono subito pronti quindi il paziente va via sempre con i denti fissi anziché portare magari delle protesi mobili nella fase di integrazione degli impianti poi ci sono dei motori oggi motori, cioè sono sempre una tecnologia cioè per inserire l'impianto io ho bisogno di un manipolo inserisco nel manipolo la fresa il manipolo è la turbina, il contrangolo quello che noi utilizziamo per curare la caria o per mettere gli impianti inserisco la fresa e questo manipolo è legato a un computerino con un motore che lo fa girare oggi ci sono dei motori che ci danno esattamente la densità ossea del paziente quindi quando io faccio il buco e inserisco l'impianto viene registrata la forza di inserzione di questo impianto e la densità ossea e quindi il motore ci dà esattamente la qualità dell'osso e ci dice la stabilità primaria dell'impianto che ci garantisce la stabilità primaria, il successo e l'integrazione dell'impianto se l'impianto ha una grande stabilità primaria sappiamo che quell'impianto sicuramente si integrerà se l'impianto ha poca stabilità primaria molto probabilmente potrebbe anche non integrarsi e questo aiuta anche il dentista a scegliere con un dato obiettivo se possiamo caricare, cioè mettere subito i denti sull'impianto perché se noi inseriamo l'impianto nell'osso e il motore che ci dice la densità ci dice guarda questo osso è un osso morbido e l'impianto ha sì stabilità primaria però è inserito in un osso di qualità molto scarsa se noi mettiamo un peso sopra una vite che è inserita in un terreno morbido abbiamo una maggiore probabilità che casca tutto e prima senza questa macchina queste macchine noi ci basavamo alla nostra esperienza alla nostra sensibilità però non era un dato obiettivo adesso abbiamo un dato obiettivo e quindi quasi sempre possiamo dire si carichiamo e facciamo sogni tranquilli noi dentisti e voi pazienti e invece prima ci affidavamo diciamo insomma all'esperienza alla mano alla competenza, alla soggettività insomma della persona quindi oggi la tecnologia ci permette veramente di essere molto più precisi più obiettivi, più sereni e anche chi non ha una grande esperienza se è dotato di questi strumenti può fare delle cose incredibili lei diceva che basta avere la buona volontà di applicarsi la buona volontà di applicarsi è un sacrificio un grande sacrificio per il dentista investire in questa tecnologia perché purtroppo costa ancora molti soldi perché è costosissima però riduce il tempo alla poltrona e quindi permette al dentista di ridurre i costi per il paziente quindi per il paziente è ottima perché quindi non è che costa di più no, costa di più al dentista è l'investimento iniziale che costa però viene ammortizzato più rapidamente perché il dentista lavora di più ne fa di più in meno tempo quindi è là il guadagno quindi anche l'attesa del dentista per avere un intervento sì, vengono ridotte però il dentista si deve applicare deve dire ok, io compro questa macchina che ha una curva di apprendimento e mi devo perdere sei mesi, un anno quello che è per imparare a usarla e mettersi di volontà di cambiare il suo flusso da tradizionale a digitale quindi è un passaggio ma i giovani specializzati come è stato lei, eccetera hanno già una preparazione scolastica in questo senso oppure è necessaria l'esperienza, la pratica? no, io non credo che ancora ci sia questo nelle università e non c'è tanti studi si figura se c'è nell'università non lo so comunque non posso dirlo però sicuramente arriverà arriverà anche la formazione digitale credo che diventerà obbligatoria come viviamo con questi smartphone smart tv e coso c'è anche la smart dentistry dovrà essere e se non ci mettiamo nella predisposizione di imparare a utilizzare questa tecnologia non credo che dopo avremo scelti insomma perché se il paziente può risparmiare venire meno e avere meno dolore credo che il paziente scelga quello assolutamente allora dottore un attimo solo che ci interrompiamo abbiamo una pubblicità poi ritorniamo tiriamo un po' anche le file dei discorsi che abbiamo fatto grazie a tutti